Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, torniamo a parlare di libri e parliamo di questa biografia di Mussolini scritta da Richard J.B. Bosworth intitolata Mussolini, un dittatore italiano. Come definire questa biografia scritta da uno dei massimi esperti internazionali di politica italiana, di politica storia italiana contemporanea? Allora, in questa biografia Bosworth esame Mussolini non nelle vesti del grande uomo che pretendeva di essere, quanto piuttosto come espressione della società e della cultura del suo tempo. Il duce, infatti, incarnò nel bene e nel male lo spirito della nazione italiana e più che un indomito rivoluzionario, nonostante tutte le sue belle parole sulla rivoluzione fascista, fu il garante della continuità istituzionale. Soprattutto si sentì sempre il più italiano degli italiani, convinto di agire in perfetta sintonia con la volontà e i desideri del suo popolo. La stessa analisi della vita privata del duce, i suoi rapporti con la famiglia e con le amanti, con i subalterni e i colleghi di partito ricostruiti alla luce di una imponente quantità di fonti. Cioè qua c'è qualcosa come un 200 pagine di note in questo libro, non sono mica poche. Dicevo, ne rivela la natura complessa e contraddittoria. Ciò che ne emerge è la figura di un individuo non diverso da tanti altri, indeciso, vanitoso, ipocondriaco, a volte semplicemente inadeguato di fronte a scelte più grandi di lui e che visse tormentato dai dubbi e dal timore di essere destinato a rimanere per sua stessa ammissione eternamente solo. Richard J.B. Bosworth, Mussolini, un dittatore italiano. Allora, io questa biografia me la son letta di gusto. Bosworth è australiano, quindi se vogliamo vive dall'altro capo del mondo, ma probabilmente il fatto di vivere dall'altro capo del mondo gli consente di gettare uno sguardo più accurato sulla realtà italiana, sui fatti italiani, sulla storia italiana. Difatti, dicevo, Bosworth è noto per essere uno dei più importanti esperti di storia moderna italiana al mondo. Ripeto, la sua lontananza fisica dall'Italia gli consente forse di guardare al nostro paese e alla storia recente del nostro paese con il sufficiente distacco e disincanto. Non è un uomo che odia il nostro paese, tutt'altro, dimostra di conoscerlo molto bene, dimostra di amarlo anche profondamente, di amare la nostra cultura, di amare la nostra storia, ma punta il dito contro i difetti di un certo tipo di stereotipi che gli italiani non riescono a superare. Insomma, lo stereotipo dell'italiano che è marchiato a fuoco nell'anima e nel sangue del nostro popolo. Il libro si apre con una serie di citazioni, praticamente una delle quali è di Curzio Malaparte, da Mus, il grande imbecille. Malaparte che per quanto discutibile siamo sinceri, Malaparte era un genio. può non piacere, a me oggettivamente non piace molto, ma Malaparte era un genio. Sentite che cosa diceva Malaparte citato da Bosworth a proposito di Mussolini. Non si può fare il ritratto di Mussolini senza fare il ritratto del popolo italiano. Le sue qualità e i suoi difetti non gli sono propri, sono le qualità e i difetti di tutti gli italiani. Mussolini rappresentato giustamente secondo me da Richard J.B. Bosworth in questa biografia come italiano con i suoi pregi e con i suoi difetti, con la sua incapacità di essere l'uomo che avrebbe voluto essere. Se ben vi ricordate in altre occasioni io ho parlato di Mussolini come del signore assoluto, totale e incontrastato del vorrei ma non posso. Mussolini cercò per tutta la vita, per tutta la sua esistenza, di essere un qualcosa che non era. Cioè cercò di essere un condottiero, un uomo forte, un uomo deciso, un capo. Ma non lo fu mai, non riuscì mai ad esserlo perché al di fuori del potente apparato della sua propaganda, al di fuori del potente apparato del consenso di cui si nutriva e di cui non poteva fare a meno, Mussolini, siamo sinceri, non era propriamente un genio. E questo libro ce ne parla. Cioè siamo sinceri, io credo che questa sia una delle biografie tra virgolette più cattive mai scritte su Mussolini perché manca completamente di indulgenza, di complicità nei confronti dell'uomo, di vicinanza nei confronti dell'uomo. Cioè ci parla dell'uomo Mussolini, ci parla della storia dell'uomo politico, del dittatore, dell'uomo che fu il padrone assoluto dei destini d'Italia per vent'anni e lo mette a nudo con una chiarezza veramente spietata. Un libro che, ripeto, ha il grande pregio di non essere indulgente nei confronti dell'uomo di predappio. Ha il pregio di fare un'analisi fredda, precisa e distaccata di quello che era Mussolini, di quello che fu il fascismo, di quello che Mussolini fece e disse durante il ventennio. Analizza la sua vita privata. Allora, se ben vi ricordate, in un video precedente avevo recensito la monumentale biografia scritta da Ian Kershaw di Hitler e Bosworth la cita nel suo lavoro. La cita parlando delle differenze tra il monorchide caporaletto boemo e il suo collega caporale di predappio. La differenza che salta più all'occhio è che mentre Hitler, secondo la giustissima definizione di Kershaw, Hitler era una non persona, Hitler non aveva una vita privata, non gli si conoscevano interessi al di fuori della politica o delle sue manie di grandezza architettoniche. Hitler era una non persona, prigioniero del suo ruolo, prigioniero del compito che si era assegnato, prigioniero delle sue ossessioni, prigioniero della sua crudeltà e della sua smania di raggiungere il Valhalla degli eroi o di bruciare nel Goddamerung che alla fine della sua esistenza lo travolse. Mussolini invece, sempre secondo Bosworth, era un uomo come tanti, aveva una vita privata, aveva mogli, aveva figli, gli piaceva suonare il violino, giocava a tennis, tirava di scherma, aveva degli interessi extra politici, differentemente al suo collega caporale Adolf Hitler. Mussolini era un piccolo borghese, un provinciale, nel senso deteriore del termine. Bosworth ce lo spiega, spiega la sua incapacità, a volte grottesca, di capire, la sua incapacità di capire di non essere all'altezza dei compiti che si era imposto. Il suo essere un incompetente che si circondava volutamente di incapaci che non dovevano fargli ombra e a cui non doveva minimamente saltare in testa di fargli ombra. Questo fu Mussolini. Io lo dico spesso e questa biografia di Bosworth, ripeto, molto probabilmente è una delle più cattive e lucide e spietate analisi che siano mai state fatte della personalità di Mussolini. Ce la racconta in maniera ammirabile questa cosa. Ripeto, è un libro interessante, quando si parla di seconda guerra mondiale è inutile, non possiamo esimerci dal parlare di Benito Mussolini che nel bene e soprattutto nel male ne è stato uno dei protagonisti o meglio voleva essere uno dei protagonisti della seconda guerra mondiale, Mussolini. In pratica che cosa fu? fu semplicemente uno che collezionò patetiche, terribili e pesanti figuracce per tutto il periodo della guerra. Insomma, un libro, quello di Bosworth, ripeto, privo di qualsiasi intento apologetico, un libro che con molta chiarezza e con molta puntualità esamina la politica mussoliniana, esamina il regime, esamina l'Italia mussoliniana, esamina la mentalità mussoliniana. E siamo sinceri, non esce fuori un quadro propriamente esaltante. Insomma, ci si chiede, ma come abbiamo fatto a metterci in queste mani? Cioè, leggendo questo libro, la prima domanda che ci si fa, c'è no, ma veramente noi ci siamo messi nelle mani di uno così? E la risposta è semplice. sì, ci siamo messi nelle mani di uno così. Tutto qua. Ripeto, cari signori, Richard J.B. Bosworth, Mussolini, un dittatore italiano. Quella che secondo me è la più, ripeto, è la più pungente, la più critica, la più tagliente e fredda analisi della vita, della politica, del modo di fare, di agire e di pensare, dell'uomo che nel bene e nel male ha maggiormente segnato gli ultimi cento anni della storia italiana. Un libro assolutamente da recuperare, un libro assolutamente da leggere. Quindi, cari signori, come sempre aspetto i vostri commenti con ulteriori considerazioni su questo libro. Come sempre aspetto le vostre considerazioni. Come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!